Ciao amici, dietro a questa parte qui c'è lo studio di DanoTV Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao Con i cuori, con il petto, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao Mangia colazione, patatine, cioccolato Con le mani, con le mani, ciao ciao Con i piedi, con i piedi, ciao ciao Con la testa, con il petto, con i cuori, ciao ciao Ragazzi, ciao 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 a tutti amici, DanoTV per voi Allora, eccomi ancora qua, pronto per stare in vostra compagnia Come vedete, dietro di me è questo mare stupendo, ragazzi Abbiamo deciso di registrare al di fuori degli studi Giusto che c'è molto caldo E abbiamo deciso di realizzare i video in una località marina E infatti, eccoci qua Prima di tutto, voglio ringraziare Ciro Il nostro cantarino estivo, proprio lui che ci fa divertire E ci rende molto felici con le sue canzoni Così, magiche, che solo lui sta a realizzare Grazie Ciro, continua così Adesso parliamo di Zengamo Allora, mi avete chiesto il perché Andrea e Rosalinda non mettono più video, molti video, diciamo così, nel loro profilo Instagram Non c'è niente di grave I nostri fidanzatini sono magari stanchi Magari c'è caldo, quello che dice sempre Rosalinda E allora non registrano tanti videoclip Ma adesso invece sono in un evento In un evento dove ci sono loro, c'è tanto male Insomma, tante cose E non ci scordiamo sempre del piccolo pino che le aspetta a Milano Adesso vi faccio vedere quello che è successo in questi giorni Momento comunicazioni Noi domani partiremo e potete venire a trovarci Saremo insieme al brand Imparo Couture E al presidente della Maison, Luigi Auletta In Calabria Domani alle 17 al Temptation Gallery di Palmi In Calabria Poi ci sposteremo in Sicilia E sabato 18 potete trovarci a Siracusa Da Valenti Sposa Telier E domenica 19 invece dalle spose di Laura A Mirabella in Baccari in provincia di Catania Vi aspettiamo Bacione A dove si va così eleganti? Dove si va? Lo scopriranno Scopriranno seguendomi Perché verrò aggiornati Non andiamo a un funerale Anche se siamo vestiti di nero 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.